La società proprietaria della casa di riposo Il Focolare di Brindisi nei giorni scorsi ha depositato presso la procura della Repubblica un'articolata memoria comprensiva di ampia documentazione per un totale di 265 pagine nella quale è ricostruito nel dettaglio su base documentale il rapporto intercorso con l'ASL sin dal sorgere dei primi sospetti di presenza del virus. Ne danno notizia i due legali della struttura gli avvocati Amilca Retana e Michele Bonsegna. Anche sulla base di questa documentazione nei giorni scorsi è stata avviata l'attività di indagine della locale procura che è stata delegata ai carabinieri del NAS. Gli investigatori hanno subito richiesto sia alla struttura privata che all'ASL di Brindisi copia dei carteggi intercorsi e altro materiale digitale che potrebbe essere considerato rilevante. Al momento il fascicolo non ha né indagati né tantomeno ipotesi di reato definite. All'interno del Focolare intanto prosegue una coabitazione sempre più forzosa proprio in funzione dell'indagine penale avviata tra la proprietà del Focolare che continua a occuparsi dell'aspetto assistenziale degli anziani e lo staff medico e dirigenziale inviato dall'ASL per gestire la situazione dopo la clamorosa diffusione dell'epidemia tra gli ospiti e gli operatori della casa di riposo. Due posizioni ormai nettamente contrapposte quelle fra la direzione del Focolare che sin dal primo momento ha denunciato presunti ritardi nell'effettuazione dei tamponi da parte dell'ASL e quella dell'azienda sanitaria che anche in recenti interviste rese dal responsabile della direzione sanitaria del Focolare sembra sollevare dubbi sul modo in cui la proprietà avrebbe compiuto scelte nella gestione prima e durante l'epidemia. Sullo sfondo l'indagine dei NAS e la morte di sette ospiti della struttura negli ultimi dieci giorni alcuni dei quali di sicuro contagiati dal covid-19. Ulteriori sviluppi potrebbero giungere nelle prossime ore.